ciao amici io sono carla del laboratorio artistico oggi disegniamo insieme qui fuori dalla finestra sta nevicando e quindi io mi sento ispirata a disegnare con voi un paesaggio con la neve come prima cosa cominciamo a fare la base quindi la terra anzi la neve poi un bel quadrato questo sarà l'inizio della nostra casetta noi partiamo sempre dalle forme semplici per disegnare quindi aggiungiamo il tetto che è un triangolo e forse fino qua lo sapevate già fare poi quello che andiamo a fare è aggiungere tanti dettagli tanti particolari che renderanno unico il nostro disegno quindi con un altro rettangolo facciamo la porta e poi andiamo a pensare a come sarà questa porta la mia porta per esempio ai vetri è fatta così quindi altri rettangoli un tondino piccolo per fare la maniglia e un altro rettangolo sotto e poi vado aggiungere sempre con le mie forme semplici tanti particolari per rendere molto speciale il mio disegno facciamo i particolari della finestra comprese le tendine poi dato che avevamo detto che sta nevicando facciamo la neve che si è posata sul tetto e andremo poi ad aggiungere il particolare delle tegole che a me piace disegnare come se fossero tante piccole onde poi voglio fare un bel pupazzo di neve e anche qui parto da forme semplici quindi prima questo ovale poi un altro sopra per il corpo la sciarpa e la testa gli mettiamo un simpatico cappello e due rametti che faranno da braccia allora bambini adesso in base allo spazio che avete ancora nel foglio potete decidere quante quali cose andare a disegnare ancora io voglio fare ancora un albero sotto la neve e vi faccio notare che anche l'albero ha la sua forma semplice che è il triangolo ma voi i cristalli di neve li sapete fare facciamoli insieme allora si fa un più poi sopra un per di traverso cercando di farlo bene in centro e poi da questo che il cristallo di base possiamo fare delle decorazioni con delle specie di v dei trattini dei pallini insomma io ne faccio un po' diversi l'importante è che le decorazioni chiamiamole così i dettagli siano simmetrici quindi divertitevi adesso possiamo continuare ad aggiungere dettagli particolari una bella scritta buon natale e un po di colore nel frattempo io vi ricordo di farvi un giro sul sito www.scualearte.it perché nella sezione corsi online ci sono tantissime risorse potete anche iscrivervi ai corsi online ai percorsi specifici per fare arte con i bambini dove troverete i pdf e i video apposta per voi per fare arte insieme sotto natale ci sono degli sconti fantastici quindi mi raccomando andate iscrivetevi e andate a vedere quante risorse per fare arte ci sono perché c'è veramente tanta tanta bella roba creativa buon natale a tutti buon natale a tutti buon natale a tutti